Addio reddito di cittadinanza, arriva la misura per l'inclusione attiva. Il Governo sta valutando di cambiare uno dei provvedimenti più discussi degli ultimi anni. La proposta, che sarà affrontata entro fine mese in Consiglio dei Ministri, prevede sussidi per due platee, le famiglie povere senza persone occupabili o con deboli a carico e le famiglie con persone in grado di lavorare. Una differenza sostanziale rispetto alla misura oggi in vigore che garantisce a prescindere un sostegno a tutti coloro che non lavorano. In provincia di Sondrio sono 752 nuclei familiari che a febbraio hanno percepito il reddito di cittadinanza. Considerando i loro congiunti, il sussidio ha aiutato 1.351 persone. L'importo medio di 498 euro mensili. A questa misura si somma oggi anche la pensione di cittadinanza destinata alla popolazione anziana. Questo sussidio a Sondrio viene erogato a 147 famiglie per un totale di 158 persone beneficiate. L'importo è di 265 euro mensili. A onore del vero, tutti i valori sono in assoluto i più bassi che si registrano a livello regionale. Numeri destinati radicalmente a cambiare con i piani del governo. Innanzitutto l'insegno massimo annuale sarà di 6.000 euro. Potrà aumentare solo se in famiglia sono presenti persone non in grado di lavorare o deboli, come ad esempio anche i minorenni. Per tutti coloro che sono in età da lavoro, il sussidio sarà erogato per un massimo di 12 mesi e passerà dai 500 euro attuali a 375. Previa sospensione di un mese potrà poi essere prorogato al massimo per altri sei mesi. Con questa novità il governo conta di aiutare le persone in difficoltà, risparmiando però rispetto a oggi 3 miliardi di euro l'anno.